Jingle Spot, il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. Missione portoghese della Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club capitolino dopo aver incontrato in Spagna l'entourage di Adriano del Barcellona è volato in Portogallo per parlare con lo sport in Lisbona per un possibile ritorno in patria di Maurizio e valutare l'interesse lusitano per Patrick. In contemporanea la Lazio ha chiesto informazioni si Wallison Malman, centrocampista classe 1994, che in questa stagione ha militato in prestito nel Nizza. Grazie a tutti.